Sono stati alcuni componenti delle sezioni pescarese di Taglia Nostra e dell'Archeoclub a far bloccare sabato mattina il taglio di alcuni alberi a ridosso del cantiere per la ristrutturazione del cercolo canottieri sul lungo fiume nord di Pescara. L'intervento dei cittadini ha bloccato provvisoriamente l'abbattimento dei pini, spiega una nota delle due associazioni, infatti esso si stava eseguendo addirittura in contrasto con le disposizioni del comune stesso che vietano l'intervento nel periodo compreso tra marzo e luglio. Successivamente è stata inviata una pecca al sindaco Mascia, agli assessori comunali competenti, alla soprintendenza, alla gruppo provinciale e alla stazione locale dei carabinieri forestali chiedendo il blocco immediato dei lavori e la rielaborazione progettuale che prevede espressamente una diversa soluzione per le aree esterne del cercolo canottieri. Il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli chiama in causa la soprintendenza. Loro hanno chiesto il 23 di febbraio una deroga in quanto c'è stato cattivo tempo e quindi hanno avuto l'autorizzazione a cominciare dieci giorni più tardi. Dunque i lavori procederanno e le piante verranno abbattute. Le piante purtroppo secondo me verranno abbattute però noi non possiamo fare assolutamente niente perché è una proprietà loro. Non ci stanno le associazioni ambientaliste che non si arrendono, Simona Barba, Italia Nostra. Noi ci siamo appellati a questa norma che tra l'altro è richiamata anche nell'autorizzazione che il comune ha dato alla soprintendenza. Quindi questa è una legge che naturalmente non verrà rispettata perché ieri li abbiamo bloccati per il momento ma sappiamo che hanno comunque in anima lunedì di riniziare.